Sta per concludersi la prima fase dei lavori di Publiacqua nel centro di Filine e fra qualche giorno riaprirà il traffico Corso Matteotti. Dal 2 maggio l'intervento interesserà Corso Mazzini e si prevedono un nuovo cambio di viabilità e l'entrata in vigore della ZTL. Quest'anno è un anno particolare appunto perché la nostra zona traffico limitato estiva si deve in qualche maniera adattare al periodo del cantiere di Publiacqua. Nel momento della chiusura del primo tratto di Corso Mazzini sarà istituita la ZTL estiva, quindi già dal 2 maggio, con la chiusura dalle ore 20 alle 24 del centro storico partendo dal Corso Matteotti. Quindi sarà impossibile accedere alla piazza dalle 20 alle 24 per permettere le passeggiate serali che molti nostri cittadini amano fare nel centro storico. Quindi partirà già dal 2 maggio, quindi con un anticipo di un mese rispetto al solito, la stagione della ZTL estiva. Questa fase si andrà a concludere entro il 2 giugno e dal 2 giugno fino alla conclusione dell'intervento di Publiacqua sul tratto lungo di Corso Mazzini, quindi che va da Via Bianchi fino a Piazza Dante, sarà possibile accedere sempre alla piazza al centro storico, ma la ZTL differirà in due fasce orarie. Dalle 17 sarà possibile accedere solo ai tratti corti della piazza, quindi quello di fronte alla collegiata e quello di fronte alle loggie del grano, quindi mantenendo una pedonalità importante sul tratto centrale della piazza dalle 17 e invece dalle 20 sarà chiusa anche Corso Matteotti dalla sua cima fino ad arrivare in piazza per permettere una ZTL più ampia dalle ore 20 alle 24, come l'abbiamo sempre conosciuta. Poi, finalmente, quando si riuscirà a concludere tutto l'intervento di Publiacqua, dall'agosto in poi potremo ritornare all'assetto originario della piazza, quindi con le chiusure che conosciamo e con la pedonalità che conosciamo da sempre in piazza. Riguardo ai lavori di Publiacqua nel tratto di Corso Matteotti, il comune di Felina Incisa tiene inoltre a precisare che le operazioni stanno procedendo in linea con il cronoprogramma definito a febbraio e che tra il 30 aprile e il 2 maggio Corso Matteotti sarà completamente riasfaltato, marciapiedi compresi e quindi riaperto al traffico. Noi siamo contenti dell'intervento di Publiacqua perché sono più di 300 mila euro investiti sul nostro comune per rifare completamente l'acquedotto e poi a seguire per riasfaltare i corsi e ripristinare e riassettare tutti i marciapiedi. Ovviamente questo intervento è importante perché l'acquedotto aveva numerosi disservizi durante il periodo estivo e tante abitazioni restavano senza acqua anche per più giorni durante il periodo estivo, però comporta anche dei disagi perché un cantiere come questo comporta tanti disagi e quindi ringraziamo i cittadini per la pazienza anche le attività commerciali perché in questi giorni hanno un po' di disagio in più. Per quanto riguarda le transenne poste in piazza Ficino per delimitare l'area pedonale, si ribadisce che saranno rimosse e posizionate in altri spazi pubblici della città. I paletti e le catiene presenti sulle testate corte della piazza saranno sostituiti da delle transenne in ghisa che sono quelle che vediamo oggi nella fase di cantiere all'interno della piazza.